Tre uomini e tre donne, così come era stato annunciato. Il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, ha ufficializzato i nomi della sua giunta. Gli assessori PD sono Fabrizio Cesetti, Manuilla Bora, Angelo Sciapichetti e Anna Casini, che sarà la vicepresidente. Per Uniti per le Marche c'è Morino Pieroni, mentre Loretta Bravi è l'assessore di Popolari Marche Udc, unico membro esterno, ma le deleghe verranno assegnate domani durante una riunione di giunta. Al via dunque la decima legislatura, quella prima seduta del Consiglio regionale delle Marche. A presiedere momentaneamente i lavori è stato Gianni Maggi del Movimento 5 Stelle, in quanto il più anziano, affiancato dai consiglieri segretari Emanuela Bora del PD, e Mirko Carloni di Marche 2020, area popolare, i più giovani dell'Aula. La prima decisione è arrivata quasi subito e all'unanimità, e cioè quella di rinviare a luglio l'elezione dell'ufficio di presidenza. Poi si è passati al voto a scrutinio segreto per il nuovo presidente del Consiglio. Con 22 schede valide su 31 votanti, Antonio Mastro Vincenzo del PD è salito al posto di Maggi tra gli applausi dell'Aula. Il numero ridotto dei consiglieri regionali ha detto deve indurci a lavorare di più e meglio per i cittadini, anche per dare risposte concrete alla disaffezione e al senso di diffidenza verso le istituzioni. Mastro Vincenzo ha anche rivolto gli auguri di buon lavoro a Luca Ceriscioli, che ha iniziato la sua relazione sul programma di governo, tra le priorità, l'occupazione e la crescita economica, l'intercettazione di fondi comunitari ed europei attraverso i bandi, ma anche combattere e rilanciare la crisi del credito, dando strumenti necessari a sostegno delle imprese. Importante per il Presidente è semplificare la burocrazia e fare in modo che le nuove leggi possano essere uno strumento di crescita e non di ostacolo. Si impegna inoltre a ripristinare i 30 milioni di fondi da destinare ai servizi sociali. La sanità, la cui delega resterà in mano al Presidente, è un altro punto fondamentale, con la riduzione delle liste di attesa e la qualificazione dei servizi. Nel programma anche le politiche ambientali, l'agricoltura, la pesca e il turismo, puntando ad iniziative ed eventi culturali e alla creazione di nuovi collegamenti che possono portare sempre più turisti nelle marche. Ceriscioli si è già dato un tempo per portare a termine le prime azioni di governo, e cioè i prossimi 300 giorni. Pier Giorgio Fabri Pier Giorgio Fabri